Ciao, sono Nello Acampora, fondatore di iPerformance. Voglio invitarti ad ascoltare con attenzione questo audio, perché sono sicuro ti darà degli strumenti importanti per portare la tua vita ad un nuovo livello straordinario, così come è successo a me. Quasi vent'anni fa, infatti, l'incontro con Tony ha dato una svolta concreta alla mia vita personale e professionale. Tony possiede la grande capacità di entrare immediatamente in sintonia con le persone, trovando la chiave per aiutarle ad ottenere traguardi ritenuti impensabili. Da oltre 30 anni il suo metodo vuol dire grandi risultati. Centinaia di migliaia di persone in Europa in questi anni hanno partecipato ai suoi corsi e dimostrano questa tesi. Tanti leader mondiali come Bill Clinton e Donald Trump lo hanno scelto come loro coach personale. Per questo motivo ti invito a dedicare pochi minuti a te stesso e alla tua crescita personale, ascoltando con attenzione questo audio. È un investimento che dura tutta la vita. Sono sicuro che Tony saprà ispirare anche te. Buon ascolto! Ciao, sono Tony Robbins e ti do il benvenuto. Ti ringrazio per voler dedicare qualche minuto all'ascolto di questo audio creato proprio per te. So che viviamo in un mondo in cui ci è chiesto continuamente dell'attenzione. Il lavoro, la vita privata, la famiglia e persino la televisione. Tutti vorrebbero la nostra attenzione. Quindi ti sono riconoscente per volermi ascoltare. Il contenuto di questo audio ti fornirà idee, spunti di riflessione per prendere una decisione che potrà cambiare la tua vita per sempre. So che si tratta di una dichiarazione piuttosto forte, ma la dico con la più grande sincerità e convinzione. Il motivo è che negli ultimi trent'anni della mia vita ho avuto il privilegio di lavorare a contatto con più di tre milioni di persone, sia in corsi individuali che in seminari in pubblico. E attraverso i miei libri ho raggiunto più di quindici milioni di persone. Le idee e le strategie che ho condiviso con questi ultimi hanno fatto una grande differenza nella qualità della loro vita, come confermano le persone che mi seguono sul mio sito e che mi scrivono ogni giorno. Quello che desidero fare attraverso questo audio è stabilire un legame diretto con te. Per questo ti chiedo di ascoltarmi con attenzione. È ora di un nuovo risveglio. È la metafora che impiego sempre. Se stai ascoltando questo audio, so che già sei una persona curiosa di conoscere degli strumenti che ti permetteranno di migliorare la qualità della tua vita. Forse ora ti senti coinvolto e non solo curioso. Forse appartieni a quel genere di persone che sono costantemente alla ricerca di idee o di strategie che possono aiutarle negli affari, nella carriera o nelle relazioni con gli altri. O forse cerchi nuove idee che ti diano più energie o metodi per essere più felice, più forte, più vivo. O forse esiti a fare queste cose. Sei libero di fare quello che vuoi. Tutti noi abbiamo degli importanti strumenti a nostra disposizione. E se hai letto i miei libri o ascoltato i miei video, allora sono certo che conosci già il valore di quello che sto per dirti. Una cosa molto frequente è che molte persone sanno cosa fare, ma non fanno ciò che sanno. Raccolgono informazioni, sono spesso persino molto motivate, ma non sviluppano le abitudini che li spingono a utilizzare continuamente ciò che sanno. E lo so per esperienza personale, e ci tengo a precisarlo, perché 30 anni fa pensavo che se avessi letto tutti i libri, ascoltato tutti gli audio possibili, avessi assistito a tutti i seminari, avrei potuto dire agli altri cosa fare della loro vita. Invece ero completamente frustrato, isolato, ero in sovrappeso di 17 chili, arrabbiato e vivevo in un appartamento di 40 metri quadri a Venice, in California. Ti assicuro che questa era la mia vita. Ma è stato qualcosa che mi ha fatto soffrire abbastanza per darmi la voglia di cambiare. Nella vita vorremmo che tutto filasse liscio, che la nostra vita fosse migliore di quella degli altri, e siamo affascinati da questa idea di poter essere felici. Ma in realtà, spesso, non siamo mai veramente a nostro agio, non viviamo mai una vita veramente intensa. In realtà, per essere davvero felici nella vita, dobbiamo avere due cose. Innanzitutto, avere l'impressione di crescere, migliorare. Se non hai l'impressione di farlo, il denaro che accumuli non ha importanza, le persone che ti amano non hanno importanza, il tuo sapere non ha importanza, il numero di diplomi non ha importanza, tutto quello che hai fatto nella vita non conta. Pensa a John Belushi, a Elvis Presley, chiedi a tutte quelle persone che hanno realizzato tutti i loro obiettivi nella vita e che continuano a dire «Questo è tutto quello che c'è?» e poi si lasciano morire. Il segreto della vita è la continua realizzazione personale. Il solo modo di essere competitivi negli affari, l'unico modo per sentirsi realizzati, è migliorare costantemente la propria vita in modo continuo e misurabile. Invece, ogni giorno noi facciamo ciò che dobbiamo fare e siamo imprigionati dal destino invece di creare realmente la vita che vorremmo. Lo scopo del mio lavoro è quello di aiutare gli altri a superare quella fase della loro vita in cui non vivono più fino in fondo per fare in modo che trovino il coraggio di osare e scoprire ciò di cui sono capaci. E poi devi fare una seconda cosa nella vita, fare del tuo meglio per spingere anche gli altri a fare lo stesso. Se hai la sensazione che ti stai realizzando e aiuti gli altri a realizzarsi, allora ti sentirai incredibilmente felice. E sono certo che hai già conosciuto momenti simili o magari li stai vivendo proprio adesso. Forse ora ti senti al massimo. Se è così, mi complimento. Ma la verità è che la gran parte di noi ha ridimensionato le proprie ambizioni. Se tu viaggiassi con me per qualche giorno, mi vedresti apparire in televisione ed essere avvicinato da dozzine di persone al giorno che mi raccontano le loro storie fenomenali e mi dicono di come un seminario al quale hanno assistito ha cambiato la loro vita. Credo che la stragrande maggioranza delle persone non sia pienamente realizzata. Molti adattano i loro sogni agli eventi quotidiani, ridimensionando le loro ambizioni. Tutti noi abbiamo fatto dei sogni nella nostra vita, magari quando eravamo molto giovani, per cui neanche ce ne ricordiamo adesso, oppure al contrario è qualcosa di più recente. Ma quando la maggioranza degli individui si propone di perseguire un obiettivo o un sogno e non riesce a raggiungerlo abbastanza in fretta, si adatta. Iniziano a dire non ho veramente bisogno di pensare così in grande, non ho bisogno di sognare così in grande, non è colpa mia, non ne sono veramente capace. Questo perché vogliono evitare la delusione. Non vogliamo essere delusi né frustrati. E mi sconvolge vedere il numero di persone che vivono ben lontane dai loro veri desideri e bisogni. Penso che ciò non dovrebbe accadere. Ora, non pretendo certo di darti la soluzione nei prossimi minuti, non sarebbe assolutamente vero. Quello che ho appreso in tutti questi anni è che le persone che hanno avuto successo nella vita sono differenti da tutti gli altri individui. Ciò che ho fatto negli ultimi trent'anni è stato dire che cosa voglio veramente nella mia vita. Quando qualche anno fa ero grasso, era piuttosto semplice. Sono grasso e vorrei diventare e mantenermi magro. Ma come riuscirci? Fare una dieta non è mai servito a molto perché riprendevo rapidamente i miei chili. E allora, come ci sono finalmente riuscito? Ho utilizzato la regola di imitare ciò che funziona. Se al contrario avessi provato a imparare dalla mia esperienza, sarei diventato vecchio, con i capelli bianchi, completamente frustrato e probabilmente neanche tanto ricco. Avrei dovuto impiegare tutta la mia vita per fare tentativi ed errori se mi fossi limitato alle mie sole esperienze personali. Ma se invece avessi imparato dalle esperienze degli altri, se avessi trovato qualcuno che era stato grasso come me, ma che poi era diventato e rimasto magro e magari anche grintoso ed energico, se io avessi potuto fare le sue stesse cose, avrei potuto probabilmente ottenere i suoi stessi risultati. Se io semino allo stesso modo, otterrò risultati simili. Ho iniziato a seguire questo principio e ho perso 13 chili in 30 giorni. Poi ho continuato e in poco più di otto settimane sono riuscito a perdere 17 chili. Non li ho mai più ripresi. Questo perché non ho soltanto cambiato il modo di mangiare, non ho provato soltanto a regolarmi, ho cambiato il mio rapporto con il cibo. Il cibo non è più una ricompensa per me. Mi spiego. Mi sono guardato intorno e ho detto che cosa posso fare per cambiare la mia vita, acquisendo nuova fiducia. Ho trovato gente che aveva fiducia in sé, ho scoperto come si comportavano con il proprio corpo, ho analizzato il loro modo di spostarsi, di esprimersi, di parlare. Era veramente differente dal mio. Ero sempre più esitante. Continuavo a pormi delle domande per capire se mai sarei riuscito a cambiare. E sai una cosa? La differenza tra me e quelle persone era piuttosto evidente. Ho iniziato a sviluppare dei modelli e sono immediatamente cambiato. Da individuo solo, sfiduciato, frustrato e confuso, sono diventato fiducioso, sicuro di me, pieno di entusiasmo e di iniziative. Perché le persone non prendono delle iniziative? Perché nessuno vuole essere deluso. Così la maggior parte delle persone ridimensiona i suoi sogni per non affrontare il fatto che la sua vita non è al livello che vorrebbe. E se la sua vita fosse coronata da successo, direbbe, è tutto qui? Perché non capisce che il vero segreto è trovare continuamente un nuovo obiettivo da realizzare. È il solo modo. Se l'acqua è immobile, diventa stagnante. Se a un certo punto della vita hai successo, ma non continui a migliorare, diventerai stagnante. e quando lo sarai, non conoscerai altro che la frustrazione e la delusione. La tua vita non ti dirà più nulla. Quando sono in questo stato, le persone si rivolgono al cibo, all'alcol, mangiano troppo, bevono troppo, fumano, passano il tempo davanti al televisore, odiano gli altri quando le cose non vanno bene, trovano una serie di difetti al loro partner, si trovano una serie di difetti, si sentono a disagio. So che non ti piacerebbe essere in questa situazione, sono certo che non lo sei, ma il modo per impedirlo è essere attivi. Anche se nel passato ho tentato numerose cose che non sono andate bene, questo non vuol dire che tutto il resto non funzionerà. Tutte le persone che hanno avuto successo nella vita hanno due cose in comune. Innanzitutto, avevano un sogno e non l'hanno mai accantonato. Sono state incredibilmente perseveranti. Per me non ha importanza che sia stato uno come Disney che abbia avuto l'idea di creare un parco di divertimento in California. Tutti pensavano che fosse folle. Disney ha detto costruirò un immenso parco dove le persone di tutto il mondo verranno per trascorrere di qualche giorno. Ha proseguito farò pagare loro un biglietto di entrata. Tutti pensavano che fosse pazzo perché in tutti i parchi di divertimento nessuno mai aveva pagato l'ingresso. Tutti pensavano che fosse insensato. E sai una cosa? Una banca dopo l'altra gli rifiutava il prestito. Finalmente dopo 302 banche qualcuno gli ha detto di sì. Ti faccio questa domanda. Quante persone avrebbero perseverato? Credo poche. Dopo i primi rifiuti la maggior parte delle persone gli avrebbe detto che era matto e forse tutti avrebbero abbandonato il progetto anche solo dopo i primi tre o quattro rifiuti. Posso dirti una cosa? Credo che se vuoi cambiare la tua vita la prima cosa da fare è essere irragionevole. Di che cosa parla Anthony Robbins se ti chiederai? È molto semplice. Il mondo è composto da persone irragionevoli e non il contrario. Una persona ragionevole può sempre comprendere perché non si può fare qualche cosa. Quella persona può spiegarti in lungo e in largo le ragioni e sai una cosa? Quella persona ha sicuramente cervello. Ma le persone che cambiano il mondo sono individui irragionevoli perché gli individui ragionevoli obbediscono alle regole del mondo. L'irragionevole dice ecco come sarà e adatta il mondo alla sua idea. L'irragionevole è una persona che quando tutti gli dicono che una cosa non può essere fatta non obbedisce a nessuno. Adatta il mondo ai suoi bisogni alla sua visione. La maggioranza di noi accetta una vita ben al di sotto di quello di cui siamo capaci. È una sciocchezza ed è la ragione per la quale non conosciamo non godiamo le gioie della nostra vita quando le meritiamo. A meno che nel momento in cui ascolti questo audio ti senti più realizzato che mai esiste sicuramente una tua area di miglioramento. C'è una ragione che ti spinge ad ascoltare questo audio e ti suggerisco di prendere una decisione la decisione di esigere di più da te stesso. Che cosa ti aspetti dalla vita? Che cosa farai per te stesso e gli altri? In cosa vuoi realizzarti? Nella carriera? Nella vita di coppia? Nei rapporti sociali o con i figli? Tutti nella vita abbiamo un obiettivo più ampio. Qual è il tuo? Perché sei lì? non è solo certamente per guadagnare soldi o per fare le stesse cose giorno dopo giorno è qualcosa di più profondo e potrai scoprirlo solo circondandoti di persone che si impegnano per migliorare la qualità della loro vita. Potrai riuscirci trovando i migliori formatori del mondo persone che hanno trovato la soluzione alle sfide che hanno dovuto affrontare quotidianamente persone che hanno portato la loro vita ad un nuovo entusiasmante livello non soltanto perché sono intelligenti ma perché hanno avuto il coraggio di accettare e affrontare le difficoltà vincendole. Ecco come ho cambiato la mia vita 30 anni fa. Sono cambiato non solo emotivamente e fisicamente ma anche finanziariamente. Ero frustrato vivevo in un piccolo appartamento e in un solo anno sono arrivato al capo di un'azienda da un milione di dollari. Come? No, non ho svaliggiato una banca non ho fatto niente di male ho solo incontrato gente come me che ha cominciato da zero e che hanno costruito un sogno persone che hanno avuto successo. Ho studiato quello che facevano e ho fatto la stessa cosa ho seminato allo stesso modo e ancora una volta ho raccolto allo stesso modo. Ho fatto la stessa cosa nei miei rapporti con gli altri e ho incontrato la donna della mia vita e l'ho sposata dopo un anno. Tutto si è svolto in un anno e non te lo dico per impressionarti ma per provarti che non è dopo uno o due tentativi che ci si può assicurare il successo bisogna perseverare. Disney non è andato in qualche banca ma in 302 quante volte il colonnello Sanders colui che ha fondato la catena Kentucky Fried Chicken ha ricevuto un rifiuto 109 volte e Rush Limbaugh che tu lo apprezzi o no è riuscito nel suo intento la ragione per la quale ha avuto successo è perché aveva una forte personalità no la ragione è che era perseverante e che non abbandonava mai è stato rifiutato più di un migliaio di volte dalle stazioni radio prima di avere la sua trasmissione quel tipo non ha mai abbandonato ha perseverato la capacità di capire che anche se niente è andato bene fino a quel momento la prossima volta potrà funzionare è il semplice denominatore comune di questi personaggi se non vuoi perseverare e non vuoi credere nei tuoi sogni sarai derubato ti sarà rubato ciò che di più importante hai nella vita una volta ho ascoltato una storia veramente sensazionale parlando con un impiegato della Disney Corporation il quale mi raccontava che un giornalista il giorno dell'inaugurazione del parco divertimenti ha detto a Roy Disney immagino che sia un giorno triste per lei Disney non è riuscito a vedere la sua creazione e Roy Disney l'ha guardato e gli ha detto si sbaglia Walt l'aveva già vista ed ecco perché oggi voi la vedete tutti noi abbiamo bisogno di una visione nella vita e mi piacerebbe essere il tuo coach per aiutarti a crearla come fare? bene sono certo che hai già letto i miei libri ho ascoltato i miei audio di cui sono molto fiero o meglio soprattutto sono fiero dell'impatto che hanno avuto sulle persone ma se vuoi veramente accelerare i cambiamenti ora che hai preso coscienza di ciò che puoi fare se davvero vuoi passare all'azione allora hai bisogno di un contatto diretto immagina di essere in un ambiente in cui puoi concentrarti totalmente un ambiente in cui non vi sono distrazioni esterne in genere credo che non ami leggere un libro essere continuamente interrotto non ti piace ascoltare la tua canzone preferita per poi magari dover uscire dall'auto immagina di essere in un ambiente insieme al tuo coach quest'ultimo ti aiuta a operare dei cambiamenti attraverso strategie efficaci e consolidate affinché tu possa prendere il controllo delle tue emozioni del tuo fisico del tuo rapporto con gli altri delle tue finanze e della tua vita ecco una buona metafora per esprimerti tutto questo in teoria tutti conoscono l'importanza di fare sport ma quante persone lo fanno regolarmente una piccola percentuale di persone sanno ciò che vogliono dal proprio corpo infatti secondo l'ultimo studio che ho letto il 68% della popolazione ha dei chili superflui e sappiamo che una persona su due in america muore a causa di una crisi cardiaca una persona su tre muore di cancro e il 70% dei casi di cancro sono collegati all'alimentazione da questi dati emerge che l'alimentazione e l'esercizio fisico sono essenziali malgrado questo però la maggior parte delle persone non fa nulla per prendersi cura del proprio corpo a meno che non abbia vissuto un'esperienza emotivamente significativa qualcosa che li ha spaventati o scossi o magari qualcosa che li ha ispirati un cambiamento significativo con il tuo corpo può essere attuato più facilmente se a guidarti è un coach non mi importa se magari scegli un corso di ginnastica per me è importante che tu faccia qualcosa hai bisogno di essere coinvolto finché i comportamenti produttivi non diventino un'abitudine so che delle persone ingaggiano perfino un allenatore un coach qualcuno che li spinga ad agire li sfidi assicurando loro delle reazioni di qualità un allenatore ecco cosa mi piacerebbe essere per te il modo di procedere è molto semplice basta scegliere un programma formativo ad hoc magari come la mia master university che si sviluppa nel corso di un anno ed è tenuta da esperti di altissimo livello sia ad esempio vuoi migliorare le tue finanze tuttavia ho capito che spesso le persone hanno bisogno per la loro crescita di strumenti pratici subito così da circa 25 anni ho creato il corso unleash the power within sprigiona il potere che è dentro di te il cui proposito è quello di spingerti a prendere delle decisioni importanti per la tua vita ad utilizzare la tua forza interiore per raggiungere gli obiettivi che davvero desideri a trasmetterti la passione per passare all'azione come posso arrivare a fare tutto questo ti starai chiedendo ci riuscirai passando quattro giorni in tiri con me prima tenevo questo corso quattro volte al mese ora solo due o tre volte l'anno scelgo delle sedi precise tengo il seminario sul posto ed ecco il motivo per cui ti invito ad ascoltare questo audio è la mia unica possibilità di stabilire una relazione con te e spiegarti l'efficacia di questo percorso un investimento fondamentale per la tua crescita e questo è il motivo per cui ti parlo voglio che tu senta la mia sincerità e il mio desiderio di incontrarti per mostrarti cosa sei in grado di fare concedimi un po' del tuo tempo per parlare del mio programma può essere l'inizio della tua nuova vita il seminario è diviso in tre parti la prima parte del programma si intitola trasformare la paura in potere l'esperienza della camminata sui carboni ardenti il firewalking il firewalking oh mio dio ti starei chiedendo in realtà si tratta di una giornata dedicata alla consapevolezza che puoi superare tutte quelle paure che fino a quel momento ti hanno impedito di realizzare ciò che davvero volevi gli obiettivi che hai non hanno importanza per me sia che si tratti di desideri che riguardano la tua vita privata la tua carriera le relazioni personali il rapporto con il tuo corpo o il superare le tue paure ciò di cui siamo capaci è assolutamente straordinario ma quello che abitualmente facciamo è deludente e la ragione è la paura la paura di fallire di essere rifiutati la paura del dolore dell'ignoto dei te l'avevo detto della delusione la paura di vedere che ciò che avevamo programmato non funziona e che per questo stiamo perdendo il nostro tempo e le energie potresti dirmi Tony io non temo niente ma hai davvero tutto quello che desideri nella vita se la risposta è no allora esiste qualcosa che te lo impedisce puoi chiamarli fattori immobilizzanti o semplicemente paura può darsi che sia una paura inconscia in una sera noi condivideremo una serie di strategie di comportamenti che ti permetteranno di superare le tue paure e di passare immediatamente all'azione questo non accadrà ascoltando un audio o leggendo un libro ciò accadrà immergendoti in un ambiente in cui sarai concentrato ad apprendere queste tecniche che potrai subito mettere in pratica toccandone con mano i risultati la camminata sui carboni ardenti è una metafora ecco perché la utilizzo dopo questa prova potrai superare qualsiasi barriera qualsiasi difficoltà potrai superare qualunque ostacolo della tua vita non ha importanza che esso sia legato alla tua azienda o alla tua vita privata ciò che conta è la tua capacità di perseverare questo è il comune denominatore tra disney kennedy o martin luther king sono persone che non avevano soltanto delle idee le mettevano in pratica magari loro non pensavano nemmeno di riuscirci ma la loro mente li ha spinti a continuare li ha portati a scegliere ora per me non è importante che diventi necessariamente come disney ma è importante che continui ad andare avanti e che impari ad utilizzare le tue risorse personali la tua potenza personale ed è questo quello che apprenderai durante il seminario il primo giorno ti darò un primo assaggio e posso dirti che quando arriverai davanti ai carboni ardenti non dovrai necessariamente attraversare il fuoco ma se lo vorrai fare ci riuscirai il 99% delle persone finisce per farlo non sei obbligato e nessuno ti costringerà ma ti troverai in uno stato che ti permetterà di farlo non si tratta tanto di attraversare la pista quanto di provare l'esperienza di quello che sei in grado di fare scoprirai attraverso questa metafora un'incredibile forza e una nuova fiducia in te stesso e questo ti porterà a riconsiderare tutte le idee che avevi su di te il tuo cervello ti dirà se arrivo a fare questo quando prima mi sembrava impossibile che cosa potrò fare ancora di più nella mia vita forse pensi che sia facile cambiare operare cambiamenti importanti nella tua vita avere dei rapporti sereni con i tuoi figli aiutarli ad eccellere sempre forse tutto ciò è veramente possibile ma la maggior parte delle persone tenta di cambiare le cose facendo continuamente le stesse cose ma questo non funziona fortunatamente questo non ti accadrà mai più perché il primo giorno ci sarà un grande cambiamento dentro di te e ti darò degli strumenti efficaci che potrai utilizzare immediatamente è la paura trasformata in potenza il programma della prima parte del seminario i due successivi giorni vedremo l'altra parte del programma che è incentrata sulle strategie la chiamiamo la psicologia del condizionamento del successo perché uno dei segreti per ottenere realmente ciò che vuoi è definirlo prima chiaramente quando chiedo alla maggioranza delle persone ciò che vogliono realmente dalla vita essi mi danno risposte generiche come vorrei più soldi vorrei avere rapporti più sereni con i miei amici con mia moglie vorrei costruire relazioni di qualità mi piacerebbe che i miei figli stessero bene vorrei essere in forma questo tipo di generalizzazioni non portano a niente la chiarezza è il potere più sei preciso nel definire ciò che vuoi più sarà facile per te ottenerlo in realtà molti di noi non sono precisi nel definire ciò che vogliono per due motivi hanno già provato a raggiungere i loro obiettivi in passato senza successo e ora ci hanno rinunciato perché temono il dolore e non vogliono rivivere la stessa situazione non vogliono essere frustrati e delusi se niente ha funzionato finora niente funzionerà in futuro credi che disney la pensasse così conosci già la risposta la risposta è che dobbiamo sapere ciò che vogliamo per questo durante la giornata ti forniremo alcune strategie che ti permetteranno di scoprire ciò che realmente vuoi dalla vita sia dal punto di vista professionale che personale il principio è semplice il modo migliore di riuscire a fare ciò che vuoi nella vita è dare agli altri ciò che essi vogliono realmente ciò che si aspettano da te e ti assicuro che se sei impegnato a fare questo riceverai quello che desideri ti darò degli strumenti per fare tutto questo ascoltami un attimo tu hai la possibilità di fare grandi cose nella vita posso dirti una cosa 30 anni fa credevo che fosse una sciocchezza fra me e me pensavo che era impossibile realizzare qualcosa di buono perché non avevo mai realizzato nulla avevo sempre fallito come ho fatto allora a diventare la persona che sono adesso se non maturi la consapevolezza delle tue potenzialità non potrai mai realizzare quello che davvero desideri non ti impegnerai al 100% esiterai perché avrai paura di non riuscire così quello che faremo nella seconda parte del programma è di aiutarti a scoprire le credenze più radicate le più importanti che hanno aiutato le persone di successo a realizzarsi non ha importanza per me che si tratti per esempio di una persona ricchissima a capo di un'impresa di una persona oggi direttore generale che ha iniziato da nulla senza un soldo in tasca senza formazione e che oggi è alla guida di una delle maggiori imprese di successo al mondo qual è la causa del suo successo o al contrario che cosa spinge qualcuno che ha vissuto una grande tragedia nella vita a essere sempre felice più felice di altre persone che vivono accanto a lui in particolare conoscevo un giovane che sfortunatamente ebbe un incidente d'auto che gli ustionò tutto il corpo facendogli perdere l'uso degli arti inferiori riesce ad immaginare la cosa incredibile è che quest'uomo oggi è più felice di altre persone che non hanno perso le gambe che non hanno il corpo ustionato e stanno bene come è possibile esiste una risposta evidentemente questa persona guarda la vita in modo differente ha una serie di credenze di cui parleremo il secondo giorno e ti mostrerò come adottare quelle che ti porteranno alla piena realizzazione facendole diventare parte di te una volta che avrai definito cosa vuoi che avrai sviluppato le credenze che ti permetteranno di perseguire i tuoi obiettivi fino alla fine che cosa faremo ti darò delle strategie e ti spiegherò come applicarle per evitare che restino soltanto teoria se il tuo obiettivo è quello di vedere il tramonto del sole e vai verso est significa che non hai la giusta strategia e resterai deluso il segreto è scegliere delle persone che hanno già raggiunto i risultati che tu desideri e modellarle è questo quello che faremo durante il secondo e il terzo giorno credo di avertelo già raccontato prima a volte mi trovavo in una stanza gremita di persone e mi sentivo completamente solo può essere capitato anche a te di avere un'idea geniale ma di non sapere come fare per farti ascoltare di non sapere come convincere il tuo interlocutore che si tratti del tuo capo o del tuo socio o di tuo figlio passeremo gran parte della serata a mostrarti come avvicinare le persone che finalmente ascolteranno ciò che hai loro da dire che finalmente vorranno aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi durante uno degli esercizi ti siederai accanto ad una persona che non conosci e penserai ad un'emozione particolare che hai vissuto nella tua vita e acquisirai una tecnica chiamata modeling forse hai già letto dei libri su questa tecnica ma magari non l'hai praticata in maniera costante fino a farla diventare un'abitudine potenziante dunque ti siederai accanto a quella persona e la modellerai e nel giro di due o tre minuti anche se non l'hai mai incontrata prima saprai esattamente ciò che l'altra persona prova so che può apparire stupefacente ma non lo è questo esercizio è un successo per la maggior parte delle persone che lo fa durante il corso questo metodo si basa su delle tecniche psicologiche precise e durante questi giorni ne saprai di più il terzo giorno è il giorno in cui costruiremo delle idee il giorno in cui svilupperemo delle strategie che cos'è una strategia? una strategia è qualche cosa che permette a tutti di ottenere precisi risultati in un dato momento magari ci sono stati nella tua vita dei momenti speciali particolarmente produttivi creativi in cui ti sono venute delle buone idee o hai preso le decisioni giuste ma poi i problemi che avevi dimenticato durante questi attimi finiscono per riemergere come riaccendere ricreare quel momento quello che faremo il terzo giorno e ti piacerà tantissimo sarà mostrarti come produrre uno specifico risultato nel tuo corpo e nel tuo cervello il tuo cervello è come un computer ultimo modello ma nessuno ti ha mai mostrato come funziona e ciò che faremo sarà mostrartelo per utilizzare al meglio le tue risorse e passare all'azione posso mostrarti che ciò che fai quando ti senti motivato puoi utilizzarlo a tuo vantaggio sempre quando ne hai bisogno è come una ricetta quando sai ciò che prepari mescoli per bene gli ingredienti e ottieni sempre un dolce della stessa qualità le iniziative di questa qualità stimolano il tuo cervello e lo fanno reagire in un certo modo si tratta di conoscere le strategie giuste dalle persone che hanno la ricetta per essere seducenti o per essere convincenti magari conosci qualcuno che non è proprio affascinante ma ti senti ugualmente attratto questo per chi adotta delle strategie di successo non si tratta di manipolazione ti mostrerò come fare per attuare le tue strategie e ti piacerà tantissimo inoltre ti insegnerò a portare a termine con successo delle attività che magari non ami sono certo che esistono delle cose che non ti piace fare ma che sai di dover fare se vuoi avere successo se vuoi crescere nella tua società o se è veramente essenziale per i tuoi figli così quando ti tocca fare delle cose che non ami prova a ripetere sono felice sono felice sono felice ecco come puoi condizionarti per operare cambiamenti difficili ma necessari questo occuperà gran parte di queste giornate infine parleremo di tutte le cose che hanno sabotato i tuoi piani in passato di quelle credenze limitanti che ti hanno impedito di raggiungere un risultato che ti hanno impedito di impegnarti a fondo e di essere come noi diciamo in armonia con te stesso se hai passione energia impegno che cosa ti potrebbe fermare una cosa sola non conoscere ancora le tecniche non hai ancora fatto tu e delle abitudini potenzianti che ti fanno sentire davvero in forma forse non ti prendi abbastanza cura del tuo corpo così l'ultima parte del programma il quarto giorno è una presentazione multimediale del mio programma che chiamo vita vitale la vita vitale non ti mostrerà come fare una dieta ma piuttosto come puoi cambiare il tuo modo di mangiare di respirare e quello che puoi fare con il tuo corpo per massimizzare la tua energia fisica questo perché se hai grandi idee ti svegli al mattino dicendoti forza ma il tuo corpo ti dice invece non voglio uscire dal letto allora c'è qualcosa che non va non è questione soltanto di energia mentale perché questa non durerà se il tuo corpo non è lì a supportarla così ti mostreremo come puoi prendere il controllo del tuo corpo una volta per tutte come riuscirci provandone piacere in modo che non ti pesi perché non si può essere a dieta per sempre e inoltre spesso essa non produce nemmeno risultati soddisfacenti probabilmente tu non hai bisogno di una dieta quello di cui hai bisogno è semplicemente più vitalità e noi ti mostreremo come fare soltanto un cambiamento nella tua respirazione potrà produrre un cambiamento per sempre ti dirò come fare il problema è veramente molto semplice tutte le cose che ti ho descritto in questa sede e ne ho probabilmente dimenticato la metà perché ho soltanto qualche minuto per parlarti ogni cosa di cui ti ho parlato è veramente importante per te ciò che voglio dire è che se davvero sei stufo se davvero sei pronto a volere di più se davvero sei pronto a fare il salto di qualità allora ti serve una molla e io voglio proprio stimolarti in questo creare le condizioni per farti operare un cambiamento duraturo ma non continuando a parlarti attraverso questo audio ho bisogno di incontrarti dal vivo al seminario sprigiona il potere che è in te e dopo che avrai preso il controllo della tua vita avrai più memoria apprendere infatti non è altro che ricordare ciò che la nostra mente sa già il potere che cerchi è già dentro di te a questo punto non mi sento di aggiungere nient'altro quello che spero di essere per te è un buon amico un buon allenatore e un buon coach per offrirti un metodo efficace che possa aiutarti ad abbattere il muro dei limiti e a muoverti nella direzione che meriti e se già sei su quella strada ti aiuterò ad andare più veloce per portare la tua vita ad un nuovo entusiasmante livello ho parlato per il tempo che mi è stato concesso da questo audio e ho apprezzato il fatto che tu mi abbia ascoltato presto verrò a trovarti non perdere quest'occasione per prendere il controllo della tua vita adesso grazie per l'attenzione spero di incontrarti presto dal vivo al seminario Sprigiona il potere che è in te nel frattempo vivi con entusiasmo energia e compassione bene sono certo che questi minuti passati con Tony siano stati per te un'occasione di riflessione e di crescita se le parole che hai ascoltato ti hanno ispirato ti hanno emozionato se in questo momento ti senti pronto a metterti in gioco e a realizzare nel concreto ciò che davvero desideri investi su te stesso e vieni con noi al prossimo evento con Anthony Robbins mi auguro di poter condividere con te impressioni e riflessioni su quanto hai ascoltato perché credo che il confronto sia uno degli strumenti di crescita più efficaci e potenti che abbiamo chiamami o contatta il mio staff di coach della formazione allo 06 3600 5152 saremo felici di ascoltare un tuo feedback e di suggerirti il percorso di formazione più adatto a te